Assaltatore localizzato! We are losing Objective Duff. Quel ricognitore è uno dei loro! Ehi, è un carro nemico! We have taken Objective Bata. We have taken Objective Edward. 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 We have taken Objective Duff. We have taken Objective Edward. Contatto visivo con un soldato nemico! We have lost Objective Duff. We have lost Objective Edward. We have lost Objective Duff. We have taken Objective Edward. We have taken Objective Charlie. We have lost Objective Edward. We have lost Objective Duff. 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 and Sonthak. We have lost Objective Duff. We have lost Objective Duff. We have lost Objective Duff. Stiamo attenti, c'è un soldato! Abbiamo perduto l'obiettivo, Charlie. Abbiamo perduto l'obiettivo, Freddy. Abbiamo preso l'obiettivo! Un ricognitore! Listo! Abbiamo perduto l'obiettivo, Duff. Carro, attenzione! Abbiamo preso l'obiettivo, Edward. Visto? Uno dei loro soldati! Ehi, là c'è un soldato! Ho individuato un soldato nemico! Un soldato nemico! No! Attenzione! Quello è il soldato nemico! Abbiamo preso! We have taken objective George and we have taken a lot of time. Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì!